Il BTP Futura Benvenuti ad un nuovo episodio della Finanza Amichevole. In questi giorni è stato comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che dal 16 al 10 luglio, salvo chiusura anticipata, sarà emesso un nuovo BTP per sostenere le spese inerenti alla pandemia e quelle inerenti al sostegno alla ripresa e proprio per questo si chiamerà BTP Futura. Le caratteristiche, quelle definitive verranno comunicate il 19 giugno, sono le seguenti. Durata tra 8 e 10 anni. Tasso minimo garantito verrà comunicato il 3 luglio prima dell'inizio del collocamento. Lotto minimo 1000 euro sarà soddisfatta la totale richiesta salvo chiusura anticipata. Cedole crescenti con il meccanismo step-up aumentano con l'avvicinarsi della scadenza. Premio fedeltà per chi manterrà il titolo sino alla scadenza tra l'1 e il 3%. Rivolto soltanto ai risparmiatori e non a investitori istituzionali. Potrà essere sottoscritto in banca, presso gli uffici postali oppure online tramite la piattaforma informatica del proprio istituto di credito. A differenza dell'ultimo BTP Italia, che aveva un rendimento minimo garantito ma legato all'andamento dell'inflazione italiana, questa emissione avrà delle cedole crescenti prestabilite. Il cosiddetto premio fedeltà per chi lo acquista in emissione e lo detiene fino alla scadenza sarà tra un valore minimo dell'1% e un massimo del 3%. Sarà calcolato in base alla media del PIL, il prodotto interno lordo, cioè la crescita dell'Italia, durante l'arco di vita del BTP. Per fare un esempio pratico, se il titolo avrà una scadenza di 8 anni, il premio fedeltà dell'1% farà aumentare dello 0,125 la cedola annuale e dello 0,375 se sarà del 3%. Mentre se avrà una scadenza di 10 anni, farà aumentare dello 0,10% la cedola annuale se il premio sarà dell'1% oppure dello 0,30% annuo se il premio sarà del 3%. Le considerazioni di investimento riguardano quelle che sono le esigenze di ognuno di noi. Come per le altre emissioni con premio fedeltà, un ulteriore vantaggio è nel detenere il titolo sino alla scadenza e per chi vuol remunerare la propria liquidità per non intaccare i propri risparmi dall'inflazione. Ricordiamoci sempre che lasciare la liquidità ferma sul conto corrente porta i nostri risparmi a ridursi per effetto dell'inflazione. Apparentemente vediamo sempre lo stesso valore. In realtà perdiamo potere d'acquisto causa l'aumento dei prezzi. Per ulteriore precisazione, in merito, potete tornare all'episodio dedicato all'inflazione del 30 giugno 2019. Quindi, indipendentemente da quelle che saranno le opzioni relativi al MES oppure al Recovery Fund, si sta adottando per una parte la strada dell'emissione di titoli di Stato per finanziare la spesa per la ricostruzione e crescita del Paese. Sempre ricollegandomi a un episodio passato, la giapponizzazione dell'Europa, con la sottoscrizione dei titoli di Stato, i risparmiatori del singolo Paese aiutano lo Stato per il fabbisogno delle spese, essendo a tutti gli effetti quelli che detengono il debito pubblico. Se questa sarà la strada corretta, lo vedremo nel futuro. Come sappiamo, aumentare le emissioni significa aumentare il debito pubblico perché lo Stato deve pagare maggiori interessi per rimborsarli. Strategia che paga con la crescita economica di un Paese. La citazione di oggi è la seguente. Un uomo con un grosso conto in banca non può essere brutto. Zazà Gabor. Rendiamo la finanza amichevole. Vi aspetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.